Dovrebbero essere effettuate domani le autopsie sui corpi delle sei vittime della calca nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Cinque ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni ed una donna di 39, madre di quattro figli morta mentre cercava di proteggere la figlia undicenne. Gli esami autoptici saranno eseguiti nell'Istituto di Medicina Legale presso l'azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Per i ricoverati invece continuano le notizie positive stando ai bollettini medici diramati dalla direzione sanitaria. Uno dei sette pazienti ricoverati nelle due terapie intensive a Dancona dopo la tragedia di Corinaldo è stato trasferito in un reparto per acuti e per lui è stata sciolta la prognosi. Degli altri sei degenti ancora in terapia intensiva si legge nel comunicato però solo uno rimane in ventilazione assistita mentre gli altri sono stati estubati e sono in respiro spontaneo. Dopo la difficile giornata di ieri del ritorno sui banchi di scuola del dopo tragedia e del ricordo straziante dei compagni di scuola oggi il Consiglio regionale delle Marche ha osservato in apertura della seduta un minuto di silenzio per le vittime della tragedia per la quale sono indagate otto persone tra cui un minorenne. Mentre nel comune di Corinaldo è stato aperto per tutta la settimana presso la sede della pubblica assistenza Avis di Corinaldo uno sportello di ascolto e dialogo con l'obiettivo di fornire un aiuto costante per tutti coloro che sentono l'esigenza di un confronto e di un dialogo in seguito ai tre decifatti. Chiunque senta l'esigenza spiega il comune in una nota può recarsi in maniera privata ed anonima presso il centro. A servizio di tutti ci saranno i professionisti dell'Asur territoriale, del servizio di protezione civile e delle organizzazioni di protezione civile. Il centro questa settimana sarà aperto e a disposizione di tutti, tutti i giorni alle 17 fino alle 20. Inoltre per chi ne sentisse il bisogno è stato attivato anche un numero specifico telefonico a cui rivolgersi per un confronto ed un ascolto con l'assistenza sociale di Corinaldo. Il numero è 338 39 24 522. È possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il martedì ed il giovedì fino alle ore 18.